musica 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 e oh scusate stavo imitando e buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video sinceramente non voglio fare aspetta che mi sale un gatto sta vomitando ah no è gogo gogo cosa ne è chi? stavo dicendo non voglio fare la intro perchè con tutto questo cibo voglio subito mangiarlo però brevemente vi spiego allora cibo mmm scusate cibo USA aspetta musica musica bambino ma che buono questo cibo USA gogo non ci provate non toccare niente ecco però potrebbe mangiare questi beef jerky oh mamma mia che buono stavo dicendo se riesco a dirlo cibo USA mi ha mandato tutti questi cibi americani e ho deciso di fare una challenge senza punti con mia sorella ovvero se posso perdere uno per uno una per uno si venderà il mio bambino scusa si venderà l'altra metterà il cibo in bocca e lei lo dovrò lo dovrà indovinare semplicemente così così non prolungo e non capite scusa io vorrei iniziare ad assaggiare che ho fame ok posso fare una piccola premessa a me moltissime cose non mi piacciono perchè odio il latte odio tante cose quindi se vomiterò taglia no no andre cosa facciamo assaggiare dai andre non guardare i beef jerky dai è il rumore da quello l'hai preso in mano prima ok chiudi hai già chiuso i beef jerky no non sta aprendo il pacchetto vero andre ah no c'è scritto qua è bravina però a fare le cose vedo allora apri la bocca vai indovina è una carne si beef jerky no però il jerky c'è no devi indovinare la carne che carne è tacchino ah buono tacchino buono vediamo se gogo apprezza buonissimo ma buono tacchino jerky ma che buono ma buonissimo questo jerky ma non hai un altro per favore di jerky ma gnom 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 i vostri cani apprezzeranno gli indiana jerky di cibo USA tocca a me allora diamoni quello che io non vorrei assaggiare no mi piace tutto penso allora ok prendo questo qui mhm beef jerky apri la bocca che è successo ah ma ora apri a me tre dai un morso tre ah questo è qualcosa vai al caramello ti do un indizio si chiama mallocup ah aiuta ehm qualcosa al caramello e cioccolato basta jerky caramello e cioccolato cioccolato si al latte c'è anche un po' di cocco si perchè c'è una roba bianca dentro no non è cocco quello dentro o forse si cioccolato al latte si secondo me è cocco mi renda il mio fidanzato ma ma dagli questo ci ho usato ma buon carino go go cioccolato ma adesso ogni cosa che apriamo lo devi portare a piccare si bene facciamo una bibita prendo le cannucce dai va bene va bene cannucce di carta perchè io sono contro la plastica dai chiedi gli occhi ma che cos'è fantastico no ah che cos'è allora non ha fatto psss quindi potrebbe essere non gasata come non ha fatto psss buona dai ma sono tua sorella abbiamo lo stesso sangue lecca dai apro gli occhi e nascondo la bibita aspetta dai ma non è vero non ci credo che ha fatto una cosa del genere con sua sorella io tutte le cose che prendi sbausciate perchè c'hai 18 piercing in bocca le uso e ti piace questo a te? no però lo faccio perchè è mia sorella no è buona eh non riesco a capire no raga è una cosa cioè il bere senza sapere che cosa hai non riesco a capire se è buono o schifoso sa di frutta frutta è un analcolico un analcolico alla frutta sembra qualcosa di tutti di bosco sembra un polaretto siiii succo di polaretto buono ma alla fine che frutto era? polaretto polaretto no era stra buono andrea dopo a staggia e per me era la ciliegia io ho scelto questo eccoci ma no che bello devo farlo vedere scusa che roba carina sta aspettando Nicola apri apri vai 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 mordi ma è pieno c'è dentro il cucchiaino quasi li volevo assaggiare da sempre di Oreo no Milka Milka Oreo molto buono no ma io sono due abbiamo usato 18 adesso vado le maracas esatto allora so cos'è questa roba qua che c'era qua infilata però non so cosa sia apri one pull questi qui patatine ai piedi ma che patatine ai piedi ma che patatine ai piedi sanno di piedi bacon e cheddar buonissimo nei piedi faccio conto bacon e cheddar danno dei piedi però un po' di bolletta vedrai che tu non ti sei mai usato ai per piedi no potato skin grande Nicola pelle di patate non è male che me l'hai portata ma che ho è perchè Ali la mangia di mattina va finita sennò devo uscire a compragli ecco vai tocca a me buoni non lo so se mi piacciono la metti c'è la sorpresa sono i pop corn al caramello si come sono? io non vado pazza per i pop corn al caramello però son buoni ecco ti stumaca ti stumaca ti stumaca ok adesso cosa mi fai assaggiare? ah ci hai messo già la cannuccia in bocca mi sembra un po' contraffatto a sta cosa no no non lo hai affatto Nicola la rehab è un poco rumore se riuscissi ad aprire questa rehab la rehab la rehab non ha la carta non è perchè ha rumore di carta non è la carta perchè hanno fatto le lattine biodegradabili ok vai è spezzante è spezzante ho si buttata in gola non so cosa siano ma se le ho accattato il gola del mondo ragazzi non ho sento wow buoni è un po' di niente sai cosa sembra? è più evidente i braccialetti con le perline di canamela più buoni più buoni ok tocca a me chiudi gli occhi prima o dimmi perchè non parla sabri? non sta parlando non capisco sabrina cosa stai facendo? tocca a me ok tocca a te arrivo io vorrei che veniva qualcosa nel naso occhio sabrina ecco prima di perdere tutta fammi assaggiare andrea è leggera? allora pesca pesca e qualcos'altro energia wow che buono il gusto dell'energia è inutile che ti avvicini qua io te lo sposto facciamo l'ultimo ultimi due una testa tocca a me croccantini del cane no cos'è? non lo so ma c'è il fuoco è una pizzica non c'è tanto è una pizzica sono i piedi? poi c'era me le date l'efficiente aaaaaaah scusi aah ma non è pizzica te lo giuro glielo ho messo in bocca 5 guarda red hot cinnamon cinnamon cos'è? cannella vieni la videocamera vieni la videocamera venivano un secondo devi chiedere gli occhi per la bocca vai no cosa state facendo? andate dalle caramelle è una roba che fa vomitare? nooo è pesce lei non è di delle cose che fa vomitare guarda no non è mai quella roba lì non sono così idiota e invece è più la roba che ha nicolino in mano qua no quanto è tragica no fidati non succede niente caramelle ho solo una ah no mastica mi hanno messo in più di una buonissimo ma come? cannella appunto è un po' forte buono eh buono eh buono eh un po' forte ma buono sto lasciando nel mio video buono ma un po' forte dici dici come stai? una alla volta magari era buono così un po' tantino mi faccio la bocca vorrei farmi i polmoni che polmoni che siete polmoni gliel'avevo fatta è proprio una scatola eh scappa 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 tu scegli le pipo io scegli come ti voglio no sai cosa? è il mio video ahahahah ma perchè a me le pipo non mi piacciono come non ti piacciono? no ma c'è questa crema bianca che eh allora scegliamo un altro ok io voglio scegli voglio mangiarmi le pipo infatti tu scegli le pipo io ne prendo un altro e puccorne al burro magari non mi piacciono guarda c'è la pentola le metti sul fuoco e scoppiano io intanto io mangio le pipo no raga ma che figo è questo è tanto il burro ma ma li hanno rimessi in italia no no non dappertutto però guardate cosa magno guarda è una confezione quindi mi sa che bisogna levare la carta vedi? eh solo questo to open gently lift this dub and pull along dotted line she feeling with the she felt the Nikki prendiammi la camera posso andare nella nostra stanza io? perchè no? tu sei con noi ma è un carattolo si ci ho messo dentro un b mica ho fatto apposta voglio precisare che da un quarto ora che siamo qui ha fatto qualcosa ancora l'hai visto no l'ho sentito no no ma se vuoi e che non sei più no l'ho ribussato sì Cioè, odore di popolo, senti? No, io lo sono bruciato dall'inizio No, no, io senti popolo Io vedo la... è normale? Non penso sia normale quel colore di... No, è... Perché sono bianco? Sono formaggio? No, sono al burro Non sono al burro Sono al burro! Sono gialli, sapete? Facciamo uno zoom sulla cucina sporca Andre, assaggio È un muro formaggioso Com'è? Com'è? Quanto burro sa? No No? Cosa? Mia sorella li ha bruciati qua Però... Ma io li ho bruciati Ma io li ho bruciati Ma cosa vuoi? Che bel colore No, non è solo burro C'è dentro qualcosa Sì, bruciatura No Sembra? Sedano A me piacciono Anche a me Oh, 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 oh Stanno scoppiando? Sì No, guarda Stanno scoppiando? Che bontà Mi è venuta fame Forse la fiamma era anche un po' troppo alta Immagino che tu l'hai messa al massimo, vero? No Era nove Su? Nove È ancora più di nove Perfetto Amore! Mi ho fatto il mio po' Non penso Io, mia sorella E questi magnifici pop corn Stiamo andando solo con i buoni Bene Vi salutiamo Vi lascio sotto in descrizione il link Dove potete acquistare questi cibi Americani deliziosi Ne ci vediamo nel prossimo video Ma andiamo un bacio Ciao amici Andre saluta Ciao Ciao amici Mi lascia un po' di queste cose a me Solo i maccheroni E solo questo per Pika Tutto il resto no E solo questo aperto Se vuoi ti lascio anche queste No Quelle te le vuoi tenere Per te le verai Ma a lui piace il piccante Aspetta Prima di chiudere Devo farle assaggiare io delle patatine Ok Io volevo assaggiarli questi maccheroni al formaggio Anch'io? Allora non guardare Fidati Non respirare però Non è vero Ho le unghie Eh ce ne sono tutte le unghie Non è che ce la veniamo Grazie Sei una Sei una Deve un insulto che mi fa Sai che sono una sorella? Sei una sorella Modella Modella Mi sono presa l'infarto Non lo ti ho notato Grazie Che fede Pensa che quando Io lo compro su Amazon Sapevo che era quello Quando lo penso Mi sono venuta a spaventare Bene Mi sono venuta